Grazie, allora terminiamo questo poker di competenze con Andrea Pontremoli, ci trasferiamo a Parma, non per una delle eccellenze di Parma ma per l'altra eccellenza che è la Motor Valley, intorno alla quale è anche cresciuto il progetto di Andrea Pontremoli. Andrea Pontremoli era un manager IBM, presidente e amministratore delegato, dieci anni fa è arrivato a Parma alla Dallara che era già un'azienda di successo e ha incrementato questo successo dal punto di vista qualitativo creando un progetto di formazione che prevedeva lo step universitario ma anche un master successivo. Quindi è un'esperienza di territorio e di formazione di alto livello ovviamente alla quale guardiamo con interesse, magari da replicare in altre parti d'Italia e lui ci racconterà e con l'intervento di Andrea Pontremoli finisce questa parte dell'assemblea. Grazie. Grazie. Buonasera, io non ho charts, cerco di avere tutto qua in testa. Ringrazio il presidente Scaglia di avermi invitato, Cristina Bombassei e Alberto che sono venuti a vedere cosa stiamo facendo anche perché è un modo penso di condividere le cose buone e meno buone, in particolare anche evitare gli errori già fatti da altri su questo tipo di esperienza. Io vengo invitato spesso a questo tipo di consessi perché vengo ritenuto un tecnologo avendo lavorato 27 anni in IBM partendo da tecnico di manutenzione quindi giravo per Milano a riparare i computer e poi sono arrivato ad essere il presidente amministratore delegato, 25.000 persone sotto di me, ho lasciato tutti e sono andato in un'azienda di 107 persone a Parma che fa macchine da corsa, la Dallara. Quando ho preso questa decisione tutti i miei amici mi hanno dato del matto, se veramente ero caduto dal letto e visto che ci sono anche tanti giovani vorrei dire che quando si prendono le decisioni devono essere prese secondo me più col cuore che con la testa. La nostra azienda fa essenzialmente tre cose, progettazione utilizzando la fibra di carbonio, aerodinamica e simulazione attraverso il super computer per simulare il comportamento di una vettura, dati certi parametri. Siamo arrivati all'estremo che è quello di costruire un simulatore di guida che permette a un pilota di guidare una macchina che non è mai stata costruita, guida solo modelli matematici. È un esapode con sopra una navicella, viene messo dentro il pilota e lui dopo un po' pensa di guidare una macchina vera. Tutte queste belle cose tecnologiche però vi vorrei portare un po' all'essenza della tecnologia. Se voi avete ascoltato bene gli interventi che mi hanno preceduto, secondo me c'è da essere un po' anche spaventati. Ho letto un'analisi fatta da uno studio americano che dice che noi nei prossimi cinque anni perderemo tra il 30 e il 40% dei mestieri oggi conosciuti. 30-40%. Cioè vuol dire che avremo milioni di persone che verranno rimpiazzati da questi robot, che poi facciano mansioni, che abbiano competenze però rimpiazzano attività manuali. Questa è una bruttissima notizia per la Cina perché hanno preso mercato facendo lavoro a basso costo e quindi per loro sarà veramente tosta. Potrebbe essere una buonissima notizia per noi, però come si diceva prima dobbiamo metterci a correre. Non possiamo pensare che rimanendo così come siamo le cose cambino. E vi vorrei portare alcuni esempi di tecnologia per farvi capire cosa voglio dirvi. Se voi prendete una tecnologia molto semplice, martello e scalpello, abbiamo parlato prima di muratori, martello e scalpello è una tecnologia molto semplice. L'ha data in mano a Michelangelo e lui vi fa la pietà. Data in mano la stessa tecnologia, martello e scalpello ad Andrea Pontremoli e fa pietà. La tecnologia è la stessa. Che cosa ha cambiato il risultato? La persona. E avete indovinato perfettamente il titolo. La persona è il centro dell'innovazione. Se noi non ci preoccupiamo di costruire le persone, probabilmente avremo dei tempi molto duri. Se invece siamo capaci di costruire qualcosa intorno alle persone, potremmo, attraverso la tecnologia che sviluppiamo noi o compriamo già sviluppata, non cambia, potremmo veramente fare la differenza. E qui vi voglio portare ad alcuni elementi molto semplici, però vedo che c'è sempre parecchia confusione. La differenza tra, prima cosa da ricordarsi, la differenza tra invenzione e innovazione. sono due cose profondamente diverse. L'invenzione è frutto di ricerca, fatta tendenzialmente da poche persone che sono dedicate a un obiettivo, normalmente lo sbagliano, volevano cercare una cosa, ne trovano un altro e lì nasce l'invenzione. Normalmente ci vogliono fondi pubblici perché pochissime imprese si possono permettere di fare ricerca, cioè studiare quello che non si sa, e questa ricerca diventa invenzione. Poi invece c'è l'innovazione. L'innovazione vuol dire combinare invenzioni già fatte, quindi la capacità combinatoria, per farli diventare modelli di business, servizi, prodotti, che prima non esistevano. Ecco, quando voi pensate alle vostre aziende, provate a pensare quanto della vostra azienda sta facendo in invenzioni e quanto invece sta facendo in innovazione. L'Italia è un paese disegnato per l'innovazione. Noi abbiamo poca ricerca, poche invenzioni, ma siamo bravissimi a combinarle. Qui sono in una provincia che conosco abbastanza bene. Quando un qualsiasi imprenditore compra un tornio, lo mette in impresa, sono sicuro che dopo 15 giorni l'han già modificato. Ci hanno già fatto quattro cose che fa delle robe un po' diverse da come gliele hai date. Ecco, noi secondo me dobbiamo concentrarci su questo particolare elemento che è l'innovazione. E l'innovazione, a differenza dell'invenzione, che è un fenomeno di poche persone, l'innovazione è un fenomeno sociale. Cioè deve coinvolgere tante persone. quando ero in IBM avevamo fatto uno studio chiedendo a 750 imprenditori di tutto il mondo da dove prendevano le idee innovative nelle loro aziende. Solo il 30% delle idee innovative di un'azienda vengono dai propri dipendenti. il 70% vengono da fuori. Quindi capite perché si parla spesso di azienda aperta. Un'azienda aperta è un'azienda innovativa. Un'azienda chiusa che sta su se stessa è destinata a morire. Perché non ha il confronto e non può prendere dall'esterno il grosso delle idee. Il grosso delle idee vengono da tre canali. il primo molto potente sono i propri fornitori. Ascoltare i propri fornitori. Dicono scusa ma perché tu fai così? Tutti gli altri fanno così. Noi abbiamo fatto delle cose incredibili ascoltando il trasportatore che mi ha chiesto perché i fondi delle macchine da corsa li facciamo così larghi. Loro hanno detto perché l'aerodinamica vuole il fondo della macchina largo. Dici no perché sai se lo facessi due centimetri più stretto spendi un terzo dei costi di trasporto. Esportando noi il 95% del nostro fatturato è un numero importante. Allora sono andato dell'aerodinamico e dico ma possiamo fare due centimetri più stretto? Sei matto l'aerodinamica va col quadrato della velocità per cui la superficie vabbè scusa. Poi essendo io non molto semplice ho detto ma perché il fondo invece che fare un pezzo solo ne facciamo due? Diviso destro sinistro. La somma dei due chiaramente costa di più che un fondo solo quindi fai anche business. E dice come fai a dirlo ai clienti? Allora l'abbiamo venduto ai clienti dicendo guarda che tu quando fai gli incidenti lo fai a destra o lo fai a sinistra quindi cambi solo metà. E il cliente dice bellissima idea. Allora vi ho fatto un esempio innovativo che nasce dall'ascolto e dalla capacità di trasformare questo ascolto in un modello di business un po' diverso da quello che avevi prima. Ecco in tutto questo contesto dove bisogna lavorare insieme io con piacere sono qua oggi non tanto per dire cosa abbiamo fatto noi di spettacolare ma perché si impara lavorando insieme. E quando andiamo a parlare di innovazione dobbiamo pensare alle persone l'hanno detto molto bene prima i professori molto meglio di quello che potrei dire io però vi voglio dire una cosa importante. Noi dobbiamo pensare a questo fenomeno della formazione a tutto tondo non solo nel formare le competenze noi lo dobbiamo pensare come fenomeno sociale pensate i danni che hanno fatto i nostri genitori e che magari abbiamo fatto anche noi dicendo ai figli studia se no vai a lavorare. cioè uno si convince che studiando è un mestiere no tu studi per lavorare e con questa frase tu togli la dignità del lavoro e noi dobbiamo essere capaci di ridare la dignità al lavoro in particolare al lavoro che ha bisogno di relazione umana io non so se la differenza poi la farà il robot che fa le cose ripetitive le cose cognitive non lo so io ho visto grazie al mestiere che faccio cose che voi umani non potete credere ma robot che fanno molto meglio di un qualsiasi professore universitario delle lezioni sanno rispondere a tutte le domande c'è un computer Watson che fa il medico molto meglio di qualsiasi medico pensate al pronto soccorso chi ci troviamo al pronto soccorso un medico tendenzialmente giovane che fa i turni con poca esperienza e si trova le condizioni peggiori possibili cioè non sa che cosa gli può arrivare gli può arrivare un ammalato di diabete uno che ha fatto un incidente uno che gli è venuto una malattia rara invece lo specialista gli arrivano già le persone indirizzate no io vado dall'ortopedico super specialista e lui si aspetta persone che hanno un male alla spalla o un osso quindi il pronto soccorso per un medico è il posto più difficile e noi che ci mettiamo quelli meno esperti solo perché accettano di fare i turni di notte ecco hanno cominciato ad affiancare questi ragazzi questi computer Watson di intelligenza artificiale che hanno immagazzinato esperienze di milioni di medici nel mondo e quindi aiutano ed assistono questi ragazzi a fare la diagnosi corretta e hanno trovato anche malattie rare che non si capiva neanche come hanno fatto a trovarlo eppure l'hanno trovato ecco quindi il computer non è che rimpiazzerà solo le cose semplici e facili rimpiazzerà anche le cose molto complesse ma una cosa non potrà rimpiazzare la relazione umana quindi quello che gli umani hanno di umano quindi perché prima guardavamo i mestieri il giardiniere quello che fa il cameriere chi lavora a contatto del pubblico è lì che fai la differenza allora bisogna partire da un concetto sociale di ridare dignità al lavoro e dare la possibilità ai mestieri di essere nobilitati un esempio che abbiamo sotto gli occhi tutti è il mestiere che i miei nonni facevano quando andavano emigrati negli Stati Uniti era il cuoco il cameriere adesso è diventato un mestiere super nobile da quando si chiama chef e metro e che la televisione gli fanno su tutti questi bellissimi spettacoli ma perché non facciamo un mestiere dentro una fabbrica hanno fatto fiction su tutto sui carabinieri sugli infermieri eccetera su uno che lavora in fabbrica mai guardate che queste cose socialmente hanno un impatto devastante e noi nel nostro territorio l'abbiamo proprio preso a tutto tondo quindi partendo dalle scuole medie stiamo costruendo un palazzo un po' più grande di qua dove stiamo facendo questi esperimenti dove insegniamo ai ragazzi la chimica la fisica la matematica attraverso le auto da corsa questo per fare che cosa per riuscire a tirar fuori dai nostri ragazzi le loro passioni il prima possibile noi abbiamo un sistema sociale che tira fuori niente cioè li teniamo fermi che scuola faccio papà ma fa il liceo che intanto ci prendiamo cinque anni vediamo come va quando ha finito il liceo e adesso cosa fai beh fai l'università ma una roba un po' non specifica perché insomma si trovano 26 anni laureati e non c'hanno il lavoro io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi hanno esposto mi hanno fatto capire le mie tre passioni macchine da corsa elettronica disjockey e li faccio ancora tutti e tre con grande soddisfazione anzi disjockey dove guadagno veramente il resto mi serve per pagare le tasse e guardate che questo passa attraverso di noi quindi lavorare con le scuole medie per ridare dignità al lavoro poi dobbiamo costruire le scuole tecniche scuole tecniche da noi per esempio fare l'istituto tecnico è considerato l'istituto degli immigrati invece gli italiani fanno liceo allora furbescamente abbiamo fatto liceo senza applicate che è un istituto tecnico travestito da liceo e c'è stata la professoressa la preside che segue Fornovo che è il nostro distretto scolastico che viene da me un po' di anni fa dice guardi che lei ci deve aiutare perché qui le iscrizioni istituto tecnico stanno diminuendo del 30% anno su anno quindi facendo la statistica fra due anni dobbiamo chiudere la scuola di Fornovo allora dico guarda che se tu pensi che io ti posso aiutare lo faccio volentieri dice sì perché ci vuole l'impresa che ci aiuti ci faccia vedere i ragazzi eccetera e dico ma dov'è il problema secondo te secondo me il problema è i ragazzi di oggi non vogliono far niente vogliono andare a studiare a Parma nella città così fanno le vasche sono fuori dal controllo dei genitori ho detto guarda che se pensi che il problema sia i ragazzi siano i ragazzi hai sbagliato tutto dobbiamo pensare che il problema è il nostro allora ci siamo messi lì la faccio breve perché se no vi tengo tu qua tutto il pomeriggio abbiamo costruito un modello dove con gli open day portando le famiglie e i ragazzi dentro le imprese gli abbiamo fatto scoprire cosa fa una fabbrica una cosa interessante è che l'hanno scoperta anche i professori non hanno idea di che cosa fa una fabbrica oggi non hanno idea ma non è colpa loro è colpa nostra noi imprenditori dobbiamo fargli vedere che cosa vuol dire fare il tecnico di galleria del vento avete letto avete visto quell'intervista di prima era interessante leggere i nomi delle persone dei lavori non ce n'era uno conosciuto ecco portarli dentro allora questo bellissimo liceo scienze applicate magicamente da meno 30% siamo a più 300% iscritti allora poi abbiamo fatto uno step successivo che è stato l'ITS istituto tecnico superiore una specializzazione ulteriore con la parte di CAD additive manufacturing compositi in fibra di carbonio macchina controllo numerico e devo dire che fatto quest'ITS che nessuno voleva fare a Fornovo in provincia di Parma ne abbiamo quattro in Emilia Romagna di ITS dice fanno fatica a Modena immaginiamoci a Fornovo beh devo dire che dopo due anni abbiamo rilasciato i primi ragazzi abbiamo la fila delle persone che vogliono venire lì il 4 di ottobre sono usciti i primi 22 ragazzi il 5 di ottobre avevano tutti il lavoro 100% unico ITS in Italia che ha il 100% in questo ITS abbiamo costruito anche tutta una strumentazione che poi ha a disposizione per chi cambia il lavoro nelle imprese la famosa formazione continua quindi si è costruito un meccanismo dove non solo insegno ai ragazzi giovani ma gli stessi strumenti le stesse alle gli stessi professori sono a disposizione della dell'impresa e adesso abbiamo 60 imprese nel nostro territorio che usufruiscono di questo modello siamo la scuola superiore un livello superiore ancora siamo andati con l'università e questa è bella ci siamo allargati un po' di più rispetto a Fornovo noi siamo famosi in Emilia Romagna per la Motor Valley perché nel raggio di 150 km trovate Ferrari Lamborghini Maserati Alfa Romeo Ducati Toro Rosso Dallara Pagani c'è il mondo dell'automotive sta lì i freni li fanno da un'altra parte ma allora la prima cosa è stata di mettere intorno un tavolo e vi assicuro che è stato abbastanza difficile Ferrari e Lamborghini perché oggettivamente si odiano dal punto di vista mercato sono in competizione ecco riuscire dopo un po' di ragionamento a fargli capire che tu puoi essere in competizione sul mercato ma puoi essere partner nella costruzione delle competenze è stato un passaggio molto molto bello e allora queste nove imprese si sono messe insieme e abbiamo disegnato sei lauree magistrali del futuro cioè lauree che non esistono e che secondo noi sono i contenuti che serviranno all'ingegnere del futuro ve ne faccio l'esempio di una perché è quella più semplice per me che è la mia carriera si chiama compomotive computer e automotive io ho fatto 27 anni nei computer 10 nell'automotive e abbiamo fatto la compomotive chi sono questi personaggi sono degli ingegneri che sanno di informatica e di elettronica e quindi si occupano delle connected cars automatic driving drive by wire tutte queste belle cose però sanno anche di automobili perché noi o facciamo degli ingegneri meccanici sanno tutto di automobili ma non sanno come utilizzare l'informatica e l'elettronica oppure facciamo degli informatici elettronici ma non sanno come applicare l'automobile noi abbiamo bisogno di questa trasversalità ecco disegnate queste sei lauree con tutti i contenuti UTCFU eccetera abbiamo fatto la cosa veramente titanica che è stata di mettere insieme le università questo era solo un pazzo poteva pensare di farlo abbiamo messo i quattro rettori dell'università dell'Emilia Romagna quindi Parma Reggio Emilia Modena Bologna e Ferrara intorno allo stesso tavolo e devo dire che ho trovato dei rettori veramente molto disponibili ma l'università l'ego scuso chiedo scusa ai professori l'ego del professore universitario paragonato a quello là di Pyongyang più o meno cioè questo è il mio corso io è un sistema che è costruito su quell'università non sono abituati a confrontarsi e provate a immaginare che diciamo allora decidiamo noi com'è il CV finale è già lì vorremmo poter mettere la nostra parola su chi è il professore ah questa no ah il professore c'è tutto il sistema universitario eh però questo facciamo una laurea interateneo sono quattro università quindi vuol dire che ci sono quattro professori e ne scegliamo uno anzi poi ci abbiamo messo i carichi da briscola ci sono anche dei docenti che possono essere ingegneri delle aziende e poi vorremmo anche dei visiting professor dall'estero perché i corsi sono in inglese già lì con i corsi in inglese abbiamo dimezzati i professori disponibili ecco devo dire che dopo un lavoro fatto insieme alla regione Emilia Romagna che ringrazio siamo riusciti a costruire queste sei lauree magistrali interateneo abbiamo fatto un consorzio con dentro tutta sta gente io sono il presidente si chiama Muner Motor Vehicle University of Emilia Romagna e l'abbiamo costituito a marzo e poi siamo partiti con l'iter burocratico per fare sei lauree magistrali vi lascio immaginare ci hanno dato dai due a tre anni di tempo e noi abbiamo usato il tempo delle imprese ci spiace noi a ottobre vogliamo partire col corso con soddisfazione vi posso dire che siamo partiti con le sei lauree ad ottobre ecco questo è un modello che mette in tensione tutti le imprese perché non sono abituate ad uscire dal proprio alveo e mette a disposizione le due cose più preziose che abbiamo il nostro sapere e la nostra strumentazione noi come Dallara mettiamo a disposizione il simulatore e la galleria del vento Ferrari mette banchi prova motori Formula 1 la Ducati mette i banchi statici l'HPE fanno tutta la parte di additive quindi ciascuno mette una propria parte per costruire le migliori competenze del mondo perché questo è un corso in inglese aperto a tutto il mondo abbiamo solo 150 posti e questo è il discorso universitario su questo ci abbiamo collegato una decina di master di specializzazione che sono già attivi e poi c'è l'ultimo pezzo l'ultimo siamo noi gli imprenditori i manager ma noi siamo preparati a gestire questa roba qua abbiamo costruito tutte queste competenze ma siamo sicuri che sappiamo dove andare a investire quale direzione prendere noi non siamo esenti da questo cambiamento quindi dobbiamo cominciare a parlarci e lì ho costruito basato sulla mia esperienza dell'IBM che ringrazio sempre perché mi ha costruito per 27 anni per fare il mestiere che faccio adesso l'imprenditore però mi ha costruito come me ne avranno costruiti 100 di potenziali amministratori delegati poi ne ho scelto uno però ho studiato a Cambridge ho studiato all'MIT ho fatto esperienze in Francia in America in Germania provate a pensare come facciamo a fare i capi noi nelle nostre aziende prendiamo il tecnico più bravo e lo nominiamo capo dei tecnici questo qui il giorno dopo si trova a rispondere alle domande che c'aveva il giorno prima e non gli abbiamo dato nessun strumento per aiutarli in questo lavoro allora basato un po' sulla mia esperienza ormai sono nove anni che ho messo in piedi un master in executive master quindi per persone che sono già capi o dirigenti nelle loro aziende e ci sono anche degli imprenditori un executive master in innovation and technology management cioè su come gestire l'innovazione della tecnologia ma questo è importantissimo perché il confronto tra persone che hanno già responsabilità e che parlano delle lingue diverse sono venuti fuori dei progetti meravigliosi da questi da questi master perché tutti gli anni vengono fuori 7-8 progetti dai più assurdi abbiamo fatto una macchina stradale per la Dallara che annunceremo il 16 di novembre che è una cosa abbastanza normale però insieme a noi ha lavorato Ferrari Ducati Trevi che fa perforazioni ha un progetto per fare una piscina profonda a 40 metri e l'hanno fatta a Padova e adesso quello che l'ha fatta ne sta costruendo la seconda cioè così si è inventato un modello di business ma cosa serve una piscina profonda a 40 metri qualcuno di voi andate in vacanza alle Maldive alle Maurizius ai Caraibi di solito fai 15 giorni la prima settimana vai a fare il corso da sub ti mettono dentro una vasca e tu vai sotto con l'istruttore eccetera dopo una settimana vai a fare le immersioni e il loro modello di business è di dire scusa d'inverno quando sei a casa vieni qua a Padova ti facciamo noi il corso di immersione meno 40 quindi arrivi fino al massimo possibile così quando vai in vacanza utilizzi tutte 15 giorni hanno fatto dei progetti tipo un sottomarino che va collega all'Europa con gli Stati Uniti in meno di due ore con un sistema a cavitazione che non sto qui a raccontare i cinesi l'hanno comprato però per dire vengono fuori dal confronto dalla diversità idee super innovative però dobbiamo partire da un concetto ed è il concetto con cui vorrei lasciarvi dobbiamo metterci in testa che la competitività delle nostre aziende non è per avere competitività non è sufficiente essere competitivi come aziende noi dobbiamo essere competitivi come territorio e per fare questo noi imprenditori dobbiamo mettere a disposizione la cosa più preziosa che abbiamo che è il tempo se io sono qua oggi non è perché ho guadagnato un sacco di soldi o perché ho degli interessi particolari è perché penso che mettere a disposizione il mio tempo e condividere con voi e voi condividere con me quello che si sta facendo sia un valore sia come esempio che come competenza quindi se ciascuno di noi comincia a mettere un po' del proprio tempo per formarsi costruire le proprie competenze e un po' del proprio tempo per rendere competitivo il sistema solo così riusciremo a essere competitivi nel futuro e probabilmente il sistema Italia le cabine di regia noi italiani non siamo fatti per fare quelle robe lì forse funziona meglio partendo dai territori partiamo dai territori e poi aggreghiamoci quando è venuto Alberto giù da noi abbiamo cominciato a confrontare il chilometro rosso con quello che noi stiamo facendo a Fornovo noi abbiamo fibra di carbonio additive manufacturing loro hanno la meccatronica ma io non ho la meccatronica allora forse posso mandare i miei per la meccatronica al chilometro rosso e quelli che fanno carbonio o additive manufacturing a Fornovo intanto insegniamo anche ai ragazzi che girare fa bene e forse per aggregazioni successive l'Italia potrebbe veramente diventare un enorme hub di innovazione per il mondo questo è il mio sogno e secondo me se tutti insieme qui ci sarà un migliaio di persone cominciamo a ragionare così e ciascuno di noi mette un po' del proprio tempo un po' della propria competenza cominciamo a mettere la nostra curiosità intellettuale lì facciamo la differenza e poi e vi lascio con questa frase che ripeto spesso noi siamo fortissimi nel gestire questo esatto momento voi pensate cosa sta succedendo oggi sono due caratteristiche del nostro periodo uno velocità la velocità con cui succedono le cose non l'abbiamo mai sperimentata così alta seconda cosa incertezza io non so cosa succederà fra cinque minuti e quello che potrebbe succedere fra cinque minuti potrebbe inficiare il mio business alla grande quando c'è stato il terremoto a Fukushima in Giappone la General Motors non ha più consegnato autovetture per 15 giorni perché uno dei chip degli airbag delle macchine General Motors era fatto a Fukushima se quel matto di Pyongyang schiaccia un bottone stasera chissà cosa succede domani se il ministro delle finanze Snowbell si sveglia stanotte e dice che i tassi di interesse devono magari domani ci troviamo con tassi di interesse raddoppiati quindi l'imprevedibilità l'incertezza abbinata alla velocità queste due cose in matematica messe insieme si chiamano caos intanto c'era un famoso teorico del caos personaggio IBM si chiama Manderbord ecco noi italiani a gestire il caos non ci batte nessuno ed è per quello che secondo me noi abbiamo tutte le caratteristiche se avete seguito il mio discorso discorso innovazione capacità combinatoria capacità di gestire il caos perché noi ci viviamo in un caos quindi per noi è normale che non succedano le cose che devono succedere gli americani i famosi tedeschi noi ci lavoriamo con i tedeschi Dio li salvi ma secondo me se chiudiamo la frontiera con l'Italia i tedeschi vanno piccola svelta secondo me ecco loro sono abituati a procedure e istruzioni hanno competenze larghe così se voi dite a un americano io ci ho lavorato guarda che per uscire da questa stanza devi aprire quella porta lì è un'istruzione per uscire apri la porta ecco se la porta è aperta non esce scusa l'istruzione è aprire per uscire è aperta quindi non esco l'italiano non ci pensa neanche va fuori perché noi quando riceviamo un'istruzione un processo la nostra mente già pensa al perché mi avranno detto sta cosa e sei già arrivata alla conclusione ma guardate che questa è una forza noi siamo più sul perché rispetto al che cosa e in un mondo che ha tanti che cosa che cambiano molto velocemente chi sta sul perché secondo me ha un grande vantaggio grazie grazie